Gianni Fantoni, fra i protagonisti del musical dei Fulmonte, buongiorno Gianni. Buongiorno. Allora, come ti sei calato nei panni svestiti di un protagonista? Ottimo, mi sembrava di essere al mare, ma senza la sabbia. Ho capito, hai avuto qualche imbarazzo di mostrarti? No, perché naturalmente li ho sovrastati con il mio fisico evidente. Ah, quindi loro si sentivano imbarazzati, gli altri colleghi? Certo, perché la natura sai, alcuni dà e alcuni togli. Senti, la tua prima opera musicale è questa? Ufficialmente sì. Perché ufficialmente? Ero fatta una sotto ufficialmente, con Ether Parisi nel 99, ma era un circuito riservato ai clienti di una banca, quindi era un musical più riservato. Quindi semi pubblico, anzi, semi privato? Semi privato. Gianni, senti, nella tua carriera in te è cambiato il concetto di comicità come concezione? No, diciamo che io mi sono sempre mostrato a tranci, quindi questo è un altro trancio di un piatto succulento. Beh, questo trancio per intero quindi mostrerai quasi? Eh beh, qui diciamo che il trancio si vede un po' più evidente. Senti, ma comunque è l'autoronia la tua forza o no? Eh beh, scusa, se non mi prendo in giro da solo, perché aspettare che lo faccia qualcun altro, quando io posso farlo meglio? Giusto, grazie Gianni Fantoglio. Saluti.